ok raga eccoci qua del pomeriggio facciamo questo video a raccontare tante cose voi vi voglio dire prima poi vi dico quelle cose mi dissocio nuove frasi bella canzone a Muzzo e tutti novità per voi del vostro Enrico Pasquala Praticoco ho detto giusto il mio nome mettete mi piace seguitemi quando vedete iscrivetevi al canale attivate la campanella per tutti i ragazzi quando guardate quando comincia quando metta o quando finisce mettete pausa andate sul link del gameplay che porto i giochi il sabato e la domenica qua sotto c'è il link di Amazon mandatemi i pacchi di Amazon così faccio un video così ho le storie così quando mi arriva vedo che cos'è prima mi mostro il pacco e dopo gli dico gli faccio sapere che c'è e mandano cazzate o cose brutte io le butto e me ne frego delle persone che sono scemi io i miei fan li voglio bene e sono il loro idolo dopo c'è il link di Amazon mandatemi i pacchi c'è anche quell'altro link ci sono anche quell'altro link qua i gameplay i giochi ok ricordatevi non voglio dire una volta o due volte o tre volte l'ho detto basta andate mettete pausa e toccate il link qua di Amazon il link dei gameplay il sabato e la domenica ci sono i giochi che porto e i pacchi che mi mandate a casa così io le apro e io a me mi piace il Natale e buona vigilia o oggi è buon Stefano la oggi e a me mi piace il Natale anche il Capodanno e voi siete a casa o andate in giro a sparare i bombetti dove le sparate voi i bombetti a Capodanno ora a dicembre a metà ditemi in privato ok dai baci se deve ridere un sorriso a tutti del vostro Enrico per scuola pratico con te le accendo sulla O ricordatevi che io sono qua di Motta San Juan e Polinghi di Reggio Calabria ho 29 anni sono il numero uno comando io sono il maestro sono una leggenda sono uno youtuber sono il di youtube e il re di youtube mamma mia sono uno youtuber migliore dai no sto facendo la mossa del telefono e niente sono qua il racconto a oggi mangiai a ieri ho mangiato la pasta asciutta anche oggi ho mangiato la pasta asciutta con i popetti dopo i patatoni i cioccolati e anche quell'altra cosa la ho sono ugukinu mi dissocio youtube e voglio dire vabbè mi scuso perdonatemi e sono qua raga guardate aspettate vi mostro la felpa una volta l'avete vista questa felpa e ora l'ho trovata che era posata in tra armadio è pulita eccola qua andiamo aspettate metto un pochino così facciamo la mossa il mio labbro di natale lo lasciamo ancora dopo a gennaio quando c'è la befana quando finisce si caccia il mio labbro di natale voi lo cacciate prima o dopo ditemi voi in privato commentatemi volete il mio disco o mi chiamate mandatemi messaggi vocali o messaggi normali io vi saluto con i vocali con i video tondi e vi saluto vi saluto vi faccio i saluti la vostra famiglia fidanzata compagni sorelle fratelli e zii parenti eccetera eccetera ok volete i saluti io ci sono ok fatemi un squillo e io rispondo vabbè il mio labbro di natale quando è ora vi caccio la voglio dire lo cacciamo e niente sono qua no davanti il sole no aspettate ah raga ho messo pausa io volevo dire una cosa poi ora apri il cellulare veloce che a sveglia sono già i 3 8 anno o calo già e tardi devo aprire il cellulare prima all'1 o in 2 quando talo quando cala devo aprire o all'1 o in 2 in questa ora lo apre il cellulare così vedo i vostri messaggi e vedo novità su internet su google o sul robot su robo ego voi lo chiamate in un'altra maniera io l'ho cambiato ciò avevo l'app sul cellulare amazon alessia e vabbè come mi esce mi esce il nome è un poco strano me lo devo imparare so parlare sono italiano con la brezza il dialetto sono il migliore io e niente dopo faccio la dub ah mi sperdì a farci il video con i capelli spasciati vabbè oggi era buono lo devo fare ora in questa ora e ora ho pensato e mai lo faccio così a prossima vediamo io tutti i giorni faccio i video no la mattina no che faccio i lavori qua a casa e anche il pomeriggio faccio i lavori quando finisco mi faccio la doccia sono pulito mi lavo i denti e mettete la mascherina e poi ho visto una televisione che parlano che quasi finisce dicembre 2021 e arriva gennaio 2022 quando finisce facciamo una diretta su youtube vabbè a ieri era natale e non ho fatto la diretta vabbè c'è programmata la diretta giorno 31 dicembre 2021 c'è la diretta programmata su youtube state là in attesa e quello giorno la facciamo e dopo programmo un'altra diretta a gennaio a fini io sono qua e niente vado nella mia stanza blu e metto pausa dai a tra poco andiamo ok guardate il mio labbro di natale la cucina sono qua raga il mio labbro di natale mi sto passando un tempo e niente raga andiamo mi voglio bene dai mi mancate ok faccio veloce che aprire il cellulare scuravo su se non ciò conoscete tutti i giorni in questa casa qua e faccio i video in tutti i maneri voi che facete zappà vigna sono un ragazzo carino sono sex le frasi sex le mie frasi famose io sono famoso sono il numero uno sono il maestro grazie mi date la forza come Goku Saiyan mi dissocio andiamo dai ok apriamo il cellulare eccolo qua lo sto aprendo arrivo raga lo sto aprendo ok aspettate dai metto pausa pochi minuti vedo e cerco qualcosa su internet su google o faccio con il robot dopo e non c'è novità vediamo dai aspettate non arrabbiate mamma mia che siete siete scemi state tranquilli mamma mia ecco youtube e il cellulare che sto aprendo lo sto aprendo ora prima lo dovevo aprire all'uno o i tuoi andiamo dai no questo video l'ho fatto un poco strano vabbè oh quasi mi stava cadendo il bossone di selfie con il cellulare non ho messo pausa e sta registrando vedete quella metà che quasi l'ho preso e mi stava cadendo con il cellulare che stava registrando dai basta così mi dissocio io mi dissocio perché no ho posato questo telefono è giusto il telefono questo qua aspettate arrivo dai oh raga voglio dire io sono bravo gentile non è che sono arrabbiato voglio ridere sono contento che ho i fan tutto il mondo io sono sempre qua faccio sempre i lavori non faccio più quello lavoro che pensate voi lo facevo anni fa o tanto quest'anno ora ho cambiato lavoro faccio qua a casa faccio pulizzo lavo a terra i mattonelli i porti i fenestri faccio i lavori qua a casa non zappo più la vigna lo volete vivendo un giardino e basta sto guardando qua aspettate sto guardando una cosa su youtube no su youtube su google aspettate aspettate vediamo c'è novità ah ok questo e vedete quella metà che mi stava cadendo il pastone dei selfie io l'ho aggiustato e mi stava cadendo per là e vedete quella metà di video quando è arrivato in quella maniera il natale sotto l'albero ha lasciato più di 100 app a giochi android in offerta ok aspettate sentite parlare la mia famiglia in cucina che erano la sotto a chiudere vediamo qua che dice rientro a scuola mascherina gratis solo per personale scolotastico con allunni sonarati dell'abbico di va bene mi dissocio ho letto bene non ho detto stronzato ho letto bene la gola ma devo prendere sciroppo vediamo vediamo qua qua che parlano il covid contagi raccord in italia il pulettino del 25 dicembre dati delle ragioni dai sono qua sta registrando sì vediamo i cannoli salati sono buoni i cannoli salati i dolci la i cannoli salati non lo provate mai voglio provare o bar ci sono i cannoli salati si mangiano raga non pensate male ah qua hanno fatto la festa rende annullato il concerto di capodanno con aiello conformati i i concerti al cileo cileo di reggio calabria ok hanno annullato il concerto a reggio calabria mi dissocio mannana natura orba e mancava la tab raga non mi rompe di catanazza a me ok che prendo la catapulta e vi butto fuori non mi rompe di scatole prendo la catapulta e vi butto fuori la catapulta vabbè ho detto tutto da qua dice a ieri hanno pubblicato i digitali terrestri arrivano i nuovi canali del 3 gennaio inizio arrivano nuovi canali in televisione i nuovi canali che cosa mostrano altri film o cose vabbè ho fatto tutto dai basta così dai ora io metto sempre il cellulare lì e registro io lo stavo aggiustando e quasi il bastone dei selfie buccava e quasi mi cadeva l'ho preso subito con le mani dopo la registrazione stava camminando e vedete quella metà vabbè è epico a me mi piace in tutti i maneri i video che faccio o i video così che si vede tutto sano il video o anche così il mostro completo il vestito e sono qua e niente raga buon Stefano è giusto ho detto aspettate metto pausa sì giusto e forse aspettate sì oggi buon Stefano quelli che si chiamano Stefano è la loro festa è un santo che si chiama Stefano buona festa di Stefano e auguro a tutti buon Stefano io lo dico ora l'ho fatto oggi lo pubblico domani e il ritardo non fa niente io vi canto una canzone così chiudo e canto le stesse canzoni quelle che so che canta Muzzo io so cantare sono bravo raga quando mettete pausa lo dico di nuovo mettete pausa andate sul link che porti i giochi qua c'è il link che porti il gameplay il sabato e la domenica qua sotto c'è il link qua c'è il link di Amazon mandatemi pacchi mandate quelle buoni scegliete quelle che metto qua tutti i giorni metto scegliete quelle non mandate quelle cazzate che non le trovate sulla mio link di Amazon mandate quelle che metto sul mio link della mia posta cioè sono le cose di Amazon mandatemi quelli non mandate stronzate che io le butto quelli e leggo i biglietti persone serie mi devono mandare i pacchi di Amazon e ci sono anche quegli altri link e cantiamo una canzone dai mettete mi piace seguitemi quando vedete iscrivetevi al canale un like e sono il numero uno comando io e sono il maestro ciao a tutti e saluto Fabio Valentina Maus D3 Over Antonio Giody Simone Davido Rubino Cristina Bartovello e tutti voi dai andiamo io sono Enrico sono qua sono qua perché faccio i video sono i uno ragazzo che fa i video su youtube sono il migliore comando io e niente io non sono cantante canto lo stesso ai fan io sono il loro idolo e andiamo avanti e spacchiamo tutto facciamo un culo così e yeah vabbè che canzone vabbè cantiamo le canzoni quelle che sapete voi che canto sempre a madonna tu lo vitt e niente la fumare e niente lo canito e cala la fumare e shu 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 e fin mi metti tu pari peppi pari peppi mi vedo la misura delle scarpe pari natu pari natu mi sono un pito spadanato shu 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 ai fin mi metti no 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 lasciare amore io ti amo mi manchi la mano io mi dissocio mi dissocio gloria 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 o la 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 piena giulia o la è cara nanana nanana il e la piena cala prisella mia mi ficio amore lala l'eru l'eru l'alà cala prisella mi ficio mi fa, che c'è, dopo ci sono altre canzoni, vabbè, andiamo, oh raga, quando guardate questo video in ritardo, oggi è la giornata dei crepe con la nutella, solo la domenica mi mangio i crepe con la nutella, non tutti i giorni, che fanno male, ma fanno male i dolci, i caramelli che cadono i denti, no, fate, non mangiate troppe caramelle, dolci, con zucchero, mangiate quelli senza zucchero, poco, no, assai, volete mangiare quelli, mangiate a voi i doloni i denti, che io i mangiavo anni fa, i caramelli e i dolci, io mangio poco, mangio uno o due, non sempre, controllate i denti, non mangiate, che i denti si fanno neri, lavatevi i denti, e si fanno neri i denti, dovete andare a un dentista, e dopo un dentista le deve canciare o le deve lavare, e sono neri, le dovete cacciare i denti, le dolono, una volta io ho cacciato forse due o uno, qua, anni fa, quando sono andato all'azzaro, con i pulmi a tripodi, ho cacciato i denti che mi doleva, forse ero uno o due, non mi ricordo, e controllate la vostra vita, io me la guarda mia, ciao raga, vi voglio bene, grazie a tutti, e io vi saluto, e io chiudo, e John Zina io, meninzini e cucù setta mammao, ciao raga, l'ho fatto troppo lungo, alla prossima, ciao ciao!